Rafforzati i controlli delle forze dell'ordine nei quattro comuni zona rossa. La decisione è stata presa dalle prefetture di Potenza e Matera in accordo con i sindaci dei territori interessati. Ieri Guerranti. Siamo qui per organizzare i servizi necessari per far rispettare le misure restrittive previste per la zona rossa. Aumento dei posti di blocco sulle strade in entrata e in uscita dai paesi e un incremento dei servizi di vigilanza in piazze e vie. È quanto deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in prefettura Potenza per organizzare i controlli nei comuni dichiarati zona rossa dal governatore Vito Bardi. Collegati in videoconferenza i sindaci di Francavilla in Sinni, Latronico e Senise, i tre comuni potentini su quattro lucani interessati dall'ordinanza in vigore fino al 21 marzo per i controlli nei centri urbani coinvolti pure gli agenti della polizia locale. La messa a disposizione anche della polizia locale affinché queste misure vengano osservate. A una riunione analoga collegato in videoconferenza con la prefettura di Matera ha preso parte anche il sindaco di Montescaglioso. Anche aprile a suo comune in zona rossa disposto un rafforzamento dei controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine.